un saluto a tutti gli amici di androidworld.it facciamo oggi l'unboxing di HPC10 abbiamo in realtà un po' smesso di fare gli unboxing un po' soprattutto per mancanza di tempo per riuscire a darvi le altre notizie di altri servizi più rapidamente tra l'altro abbiamo anche già recensito HTC10 ma facciamo comunque l'unboxing perché siamo riusciti a trovare e a mettere le mani su un HTC10 confezione di vendita e come sapete di HTC10 confezioni di vendita in giro ce ne sono veramente pochissimi ci sono più probabilmente Yeti o mostri di Loch Ness che HTC10 in questa confezione quindi abbiamo deciso di mostrarvi la confezione di HTC10 colorazione nera, la stessa che abbiamo già recensito e questo è il contenuto al suo interno Qualcomm Quick Charge 3 tra l'altro leggermente gommato, questo è veramente molto bello molta attenzione ai dettagli come al solito in HTC Hi-Res audio pin HTC incastonato qua dentro e la dicitura Type-C quindi si alza tutto lo scompartimento mi sa, perché altrimenti non si riesce e si lascia spazio alle cuffie ops, in-ear stereo le stesse già viste nella confezione prova per i giornalisti tutti i vari gommini delle varie forme l'alimentatore con presa italiana ovviamente se trovo l'indicazione ve la rileggo eccola qua quindi con 12V 1.25A con il cavo USB USB Type-C e qua dentro possiamo continuare ad aprire per accedere alla manualistica e al pin che avete visto incastonato qua all'esterno quindi, nonostante la recensione sia già arrivata quindi andate sul nostro canale di YouTube sul nostro sito per guardare la recensione di HTC 10 comprensiva tra l'altro di tutta una serie di confronti con Huawei con iPhone con Samsung e anche con LG sul nostro sito e sul nostro canale di YouTube per questo unboxing dopo la recensione quindi molto particolare è tutto un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it Grazie a tutti